Stefano una cagnetta boscaiola proviamo il tappagli in nato oddio ne ha trovato uno due guarda che roba guarda che roba guarda che ha visto anche l'altro che storia poi li metti assieme ma che spettacolo e via grande e adesso dove passi dai vieni dai dai vieni passi dai dove c'è pure che le rievo bianche ma dai si vende però è la forte prima dai ma dai passi è la forte prima che aveva un bastone che lo metteva sempre nel sedere di Silvio ah però alla no la la fantastico grazie